Pronto negli uffici comunali di Palazzo Belvù a Sanremo un piano che riguarda la ristrutturazione della canalizzazione delle acque bianche in corso Cavallotti, un'importante azione di prevenzione con una spesa di circa 430.000 euro. Nel mirino dell'amministrazione comunale c'è da risistemare una condotta in una zona già precaria, così come in altri punti della città, dove le tubature esplodono quasi all'ordine del giorno. Dopo la pubblicazione da parte del Comune per la manifestazione di interesse, vale a dire per verificare la presenza di imprese interessate ai lavori per altri usi, sono arrivate alcune richieste e di conseguenza l'amministrazione ha proceduto il via alla gara per l'affidamento dei lavori. La prossima settimana le offerte pervenute agli uffici di Palazzo Comunale saranno vagliate e quindi si procederà alla designazione dei lavori. Si tratta di interventi necessari, considerate le condizioni vatuste delle condotte cittadine, pronte ad esplodere soprattutto nel periodo estivo, sia per la canalizzazione delle acque bianche che per le nere. Miasmi, liquami e mare nella stagione estiva hanno comportato spesso il divieto di bagnazione.